Però quando io dico politica non mi interisco o soltanto al Parlamento o ai partiti politici. Io in termine politica, diciamo, ci sono varie eccezioni in termine politica, naturalmente, io ne do due. Una è la politica verticale che si consegna dentro i partiti, le istituzioni, e poi c'è la politica orizzontale che è un po' quello che diceva lei. Però la sensibilizzazione, come dire, è qualcosa che non può essere riservato alla pedagogia, ai buoni sentimenti, eccetera. È per l'appunto fatto. Questione politica.